Arriva alla sesta edizione il Festival del Cinema dei Diritti Umani, il cui programma è stato presentato nelle sale comunali di Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore alla cultura Nino Daniele. Credo che sia una delle manifestazioni culturali più belle e interessanti che abbiamo la fortuna di ospitare a Napoli, ha davvero una dimensione universale e affronta una delle questioni più critiche del nostro tempo e del mondo contemporaneo. E quindi il tema dei diritti e della violazione dello scempio che si fa dei diritti ripropone interamente il tema di una globalizzazione che è segnata profondamente dall'ingiustizia, dalla perdita di ogni umanesimo. E quindi credo che da questo punto di vista, come gli animatori di questo festival giustamente rivendicano, oggi Napoli è capitale dei diritti e credo che questo sia un bel modo di presentarsi della città anche in questo momento così difficile. Una kermesse densa di incontri, proiezioni, dibattiti che avranno luogo in sedi differenti per 11 giorni nel capoluogo partenopeo. Il fulcro è rappresentato dal concorso cinematografico a cui partecipano 26 film, 5 le tematiche affrontate, salute, organi umani, carceri, diritti dei minori e diritti negati, come spiega Maurizio Del Bufalo, ideatore della manifestazione. Novità strutturali ce ne sono, perché al di là della formula che è rimasta invariata, perché è sempre una formula partecipativa che coinvolge le associazioni, direi che quest'anno abbiamo incominciato a fare qualche passo più deciso verso la produzione di opere. Quindi abbiamo cercato in Argentina, che è il nostro obiettivo preferito di questi anni, perché forse lei ricorderà che siamo nati un po' sulla scorta dell'esperienza di Buenos Aires sui diritti umani. In Argentina abbiamo provato quest'anno a produrre, a costruire un'opera progettata da noi, con l'aiuto di un regista napoletano, Antonio Manco, che qui oggi ci racconterà un pochino questo progetto. Quindi abbiamo fatto un altro passettino in avanti come festival e poi anche abbiamo dato inizio dalla prossima primavera ad un master di secondo livello, che è promosso dal festival e che si terrà tra le università di Napoli e di Salerno insieme con quelle argentine. Quindi questi sono due momenti importanti.